bentornati alla cucina del gatto oggi vediamo un piatto perfetto per una cenetta romantica che predispone al buon amore assolutamente da gustare in buona compagnia per una serata speciale perfetto per creare l'atmosfera e con un pizzico di zenzero per renderlo affidisiaco ma vediamo gli ingredienti un pacchetto di ravioli allastice due carote un'arancia zenzero fresco 80 grammi di burro sale pepe peliamo le carote tagliamola a metà e poi a listarelle sottili tagliamo circa due centimetri di radice di zenzero fresco peliamola e tagliamola a fettine grattugiamo la buccia dell'arancia e spremiamo nel succo mettiamo la metà del burro in una padella e l'altra metà in un padellino lasciamolo fondere a fuoco basso e aggiungiamo lo zenzero nella padella lasciamo che insaporisca il burro e dopo un paio di minuti aggiungiamo le carote saliamo e lasciamo cuocere per circa 5-6 minuti nel frattempo aggiungiamo nel padellino il succo dell'arancia la buccia grattugiata e il pepe e lasciamo andare a fuoco vivace finché il succo non si sarà ritirato cuociamo in abbondante acqua già salata i ravioli per circa 3 minuti cominciamo ad impiattare mettendo sul fondo della scudella le carote col relativo succo i ravioli ben scolati e condiamoli con la riduzione di succo d'arancia e zenzero serviamo come sempre con un ottimo vino bianco o prosecco se la ricetta vi è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto ciao ciao ciao